napoli salernitana sono due squadre che godono della mia simpatia in quanto campane ma il titolo da non credere si riferisce alla salernitana perché la salernitana in tre partite che sono quelle che mi ricordo salernitana milan salernitana juve e napoli salernitana le ha perse tutte e tre nei minuti di recupero e sapete quando succedono queste cose significa che nella squadra c'è probabilmente mancanza di personalità perché quando succede la prima volta è sfortuna quando succede la seconda volta può essere sfortuna ma quando succede la terza volta non è più sfortuna a mio avviso manca quella cazzimma soprattutto nei minuti finali quando si decide la partita è lì che i calciatori della salernitana vengono meno perché col milan prendi gol in una mischia in una mucchiata è così contro la juve vlaovic tutto solo in area di rigore libero di staccare oggi un'altra mischia in area di rigore racmani tutto solo e fa gol è chiaro che c'è questa mancanza è chiaro come in zaghi le partite le prepara bene perché comunque sia rimane in bilico sul risultato di pareggio fino al novantesimo però negli ultimi minuti la perde ovviamente non è colpa di zaghi la colpa secondo me è più dei giocatori che non hanno ancora quella maturità e mi dispiace perché poi questi alla fine saranno punti che peseranno in ottica salvezza sono punti che potrebbero essere decisivi d'altro canto vittoria fondamentale per il napoli tre punti utili per la corsa al quarto posto che è una corsa molto agguerrita tra tante squadre quindi il napoli oggi doveva assolutamente tornare alla vittoria ma a mio avviso è una vittoria che non scaccia le critiche non scaccia i dubbi e soprattutto non scaccia le lacune che si sono viste nelle ultime settimane il napoli è chiaro che in questo momento ha anche un problema di interpreti perché mancano tanti giocatori che è partito in coppa d'africa che è infortunato insomma mancano veramente tanti giocatori però mi sembra che ci sia anche un po' di confusione in mister mazzardi perché mister mazzardi mazzardi lascia stare che adesso la partita è stata vinta è andata bene ma al 65esimo fa un cambio da licenziamento immediato toglie politano per mettere zerbin è chiaro che lui in panchina a zerbin è quello mette gli è rimasto quello è quello mette anche se ci sarebbe l'indstrom che è stato comprato in estate non si sa per quale motivo ma non è quello il punto il punto è che tu stai pareggiando contro la salernitana in casa politano dopo quaraschelia è il giocatore più talentuoso che ha in campo non lo puoi togli ma non lo puoi togli politano lo togli se stai due gol avanti allora ci sta che lo togli ma sul risultato di pareggio per quale arcano motivo lo devi togliere dal campo tant'è vero che quando è stato sostituito insomma non è che l'ha presa benissimo ma è normale a prescindere i giocatori non vogliono mai uscire dal campo ma in quella situazione di gioco non era un cambio da fare adesso non se ne parlerà tanto perché il napoli ha vinto lo stesso la partita poi zerbin per carità non ha fatto nemmeno male ha fatto un assist di tacco a quarascheria molto bello ma se vuoi mettere zerbin al limite fai un cambio tattico un cambio modulo ma politano a prescindere una mossa sbagliata non lo devi togliere dal campo per il resto tanta confusione anche nel gioco l'abbiamo detto e stradetto che il napoli dello scorso anno a livello di gioco non esiste più ed è un napoli molto caotico molto confusionario nel secondo tempo in verità è stato anche un po sfortunato perché poteva segnare prima l'occasione di caiuste in apertura di secondo tempo l'occasione di quarascheria quel tiro deviato da lovato che esce di pochissimo quindi alla fine a livello di occasioni in napoli probabilmente anche meritato questa vittoria la poteva vincere molto prima però per la salernitana resta l'amaro in bocca perché ripeto quando per 90 minuti mantieni il pareggio sia con il milan sia con la juve che con il napoli poi le perdi tutte e tre nei minuti di recupero significa che non sei maturo non sei maturo nel modo più assoluto però allo stesso tempo penso che in zaghi stia facendo veramente il massimo perché ha una rosa ridotta all'osso di addirittura infortunato che il migliore attaccante che ha ma per il resto la qualità della rosa è quella mazzocchi è stato ceduto quindi insomma questi sono gli ingredienti gennaio è il mese della riparazione quindi ci si augura che gli possano comprare dei giocatori di categoria si parla ho letto qualche nome speriamo che sabatini faccia il suo lavoro perché insomma la salernitana ce le ha le carte in regola per salvarsi non mi sembra che le altre siano superiori tipo verona empolis e squadre qua però è chiaro che bisogna cominciare a fare punti nelle ultime due giornate ok contro la juve contro il napoli ci sta che le perdi però dalla prossima la salernitana deve cominciare a raccogliere punti e se gioca così come ha giocato contro le big io non ho dubbi che i punti comincerà a farli il napoli che dire non scaccia via i dubbi le lacune delle ultime settimane però è chiaro che quando si vince ritorna l'ottimismo ritorna un sorriso a proposito di sorriso abbiamo visto anche il presidente dell'aurentis sorridere dopo il gol del 2 a 1 ci sta ovviamente quando vinci nei minuti di recupero sono sempre le vittorie più goduriose però anche il napoli se vuole raggiungere l'obiettivo di andare in champions deve giocare meglio perché può giocare meglio e soprattutto deve trovare la continuità che è quella che è mancata al napoli quest'anno napoli non è mai stato continuo quest'anno e se si trova al settimo ottavo posto il motivo è proprio questo vabbè ragazzi miei ci sentiamo più tardi perché stasera scendiamo in campo noi in un campo non proprio semplice dove tutti hanno faticato per cui speriamo di fare una bella partita di scendere concentrati è l'ultima partita prima della supercoppa quindi speriamo di chiudere in bellezza per poi volare in arabia saudita e vabbè allora ci vediamo più tardi per il momento io vi auguro una buona serata lasciate un like iscrizione al canale a dopo ciao